dunque questa è l'ora solare e lo sappiamo alle 12 e 20 ci fate la grande cortesia e di grande regalo di farci entrare nelle vostre case allora noi abbiamo pensato di fare un di presentarvi un concentrato di professionalità simpatia garbo assoluto talento abbiamo fatto abbiamo mescolato ed è uscita fuori è di angelillo grazie guarda che meraviglia grazie siamo contentissimi anche io felicissima di essere qui con voi non ci abbracciamo ma questo ormai lo sappiamo ed è giusto per stare per essere rispettose delle regole e di tutto ma vi ripresentiamo vi riraccontiamo vogliamo portarvi questo regalo in casa perché ed è veramente un regalo un dono non solo per il mondo della dell'arte ma anche per le persone che le vogliono bene e questi erano gli insulti eh siamo partiti subito serissimi così perché edy il nome proprio edy 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 con la y è perché mia mamma quando era incinta guardava lascia ora doppia se non sbaglio una trasmissione con mike buongiorno e la valletta di mike buongiorno era edy campagnoli che era molto bella e a mia madre sperava ovviamente diventassi bella come lei e quindi ha detto la chiamerò edy e tu hai superato hai superato a destra la edy campagnoli molto bene allora la ragazza la ragazza che dimostrerà subito un amore assoluto anche perché ne parliamo insomma del papà e della mamma e lì è arte che si passa di padre in figlio nasce giustamente a venezia in un luogo meraviglioso sì no devo dire che aprire gli occhi e la prima cosa che vedi in vita tua è venezia insomma non è male come come inizio non è male e segui il dolce e la torta poi la polpettina da mangiare e lei la vedete tra un papà e una mamma franco angelillo e regina garofalo tu le hai definiti oltre essere meravigliosi genitori due jukebox ambulanti assolutamente è perché loro per il mestiere che insomma facevano cantavano in giro per il mondo dancing night navi hotel ovunque ovunque e quindi loro il loro lavoro era quello di imparare delle canzoni nuove sempre quindi dei jukebox ambulanti noi infatti eravamo a casa a studiare e sentivamo sempre tutto e tutto il giorno era la vostra colonna sonora assolutamente papà e mamma che cantavano che cantavano allora papà e mamma che cantavano e che meravigliosi genitori giustamente si portano dietro tutta la la famiglia fin tanto che si può certo che poi inizia la scuola inizia un periodo in cui si è interrotta questo questo continuo viaggiare con loro con loro sì certo perché loro continuavano a girare sono stati in africa hanno vinto tra l'altro anche un festival mondiale a tokyo sì sì quindi erano forti erano e però io sono rimasta insomma con mia nonna e con mia zia a casa e quindi loro andavano e venivano insomma ma insomma questo intanto immagino stracoccolata chiaramente io mia nonna l'adoravo era la mia era stupenda l'amoranto tu sei bella allora questa ragazza che è l'emblema della della solarità incide due dischi lei la figlia dei jukebox cioè di papà e mamma quando hai solo 19 anni sì 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 è una pupetta ma sono sempre stata molto curiosa e quindi ed è giusto esserlo poi a quell'età e provare un po di cose insomma io ho sempre amato la recitazione quello che voleva fare era l'attrice era quello però proviamo ma sì dai proviamo cantiamo sì sì però ho scoperto che insomma non era proprio la mia strada eppure tu hai una bellissima canto mi piace molto cantare però io dei punti di riferimento troppo alti troppo è la si gerald no no quella no è la si gerald mina si mia martini queste grande barbara straisan queste cantanti straordinarie quindi sentendo la mia voce mi sono detta no vabbè non potremmo mai arrivare me la fai sentire la tua voce cioè mi cosa posso cantarti non lo so me la porto a casa io le dico prima eh le dico prima poi se da sistina la cercano l'ho portata a casa io una cosa minima sì signore sì vabbè rugandino dice che maestro ditte proprio l'amo che ci vuole dice pure che c'è un poco di terra al sole basta dai ma tu sei questa è eusebia è eusebia di rugantino e lei è diversa da ieri questa è eusebia è eusebia di rugantino scusate noi ridiamo tanto perché è meravigliosa questa è edi che dice ah no tutta questa voce non l'avevo ma posso non essere d'accordo ma guarda io sono sempre pronta ai complimenti puoi dirmi tutto quello che vuoi assolutamente io prendo e porto a casa dissento appunto senza confini era questo 45 giri poi eusebia l'abbiamo sentita ma la risentiremo non la faccio cantare due volte però ci facciamo raccontare un sacco di cose allora lei ha citato la grande america no i grandi artisti e di angelillo è questo lei è 360 gradi di artista perché hai imparato a ballare hai imparato hai fatto corsi scuole di recitazione tu sei una persona che giustamente come hai detto curiosa fin dall'inizio ha detto se devo stare su un palcoscenico devo saper fare quindi ti sei mossa avere un'infarinatura insomma nel senso che c'è che scatare una farina tutta intera e mi hanno pure fritta eh scusa eh immaginate un sacco di farina e lei fino all'ultimo riccio lo cerca da quello per lei è un'infarinatura esatto va bene e quindi questo tuo lavorare su te stessa ti ha fatto capire il tuo talento quando perché uno lo capisce di avere un talento lo capiscono anche gli altri ma insomma ma forse un po tardi nel senso che ho sempre cercato di fare le cose per bene eh sapevo di di cavarmela eccetera però diciamo che con la maturità diciamo così non per dire la vecchiaia con la maturità ho capito insomma che sono una brava attrice eh però con la maturità prima ero sempre un po che classico quando sei più giovani non ce la farò chissà forse non sono all'altezza ma bim bum bam tutte queste dunque eh provate ad immaginare due binari no che sono due binari e su cui corre il treno ad alta velocità Edi Angelillo un binario dice ma sì non lo so forse dall'altra parte corre il talento ben prima della maturità che peraltro non so quando sia arrivata per lei scopriremo come dall'inizio Edi Angelillo abbia fatto meraviglie e continua a farle ci vediamo tra un attimo all'ora solare grazie bravissima bellissima solare e professionista in tutte le cose che fa Edi Angelillo ecco allora Rattataplan 1979 Maurizio Nicchetti giustamente ti identifica come la persona giusta si comincia ma è nata così nel senso che io facevo appunto danza ricitazione mimo tutte insomma queste cose e a scuola vedo che c'era insomma provini per un film e insomma ci sono andata con altre mie mie compagne di corso e abbiamo fatto varie selezioni e alla fine sono arrivata alla fine appunto e mi hanno presa e quindi cosa strana sì fantastico e allora niente abbiamo fatto questo film che è costato pochissimo tipo 99 milioni all'epoca e ma nessuno si aspettava niente di che era un film piccolo molto piccolo mi sono divertita tantissimo con Maurizio Nicchetti che saluto ciao Maurizio e niente poi mi telefono un giorno Maurizio mi fa Edi siamo al festival di Venezia faccio cosa sì hanno preso il festival di Venezia Venezia sì Venezia vedi che ritorna esatto e poi da lì pam è partito questo film ha guadagnato un botto di soldi e ha avuto un successo incredibile e da lì è partita la mia la mia carriera devo dire la tua luminosissima sì sono stata molto fortunata nella mia vita devo dire è bellissimo che tu lo dica Edi perché le persone cariche di talento lo sono ancora di più quando riconoscono la fortuna in realtà la fortuna dice sono stata fortunata a baciare sulla fronte quella ragazza a quel ragazzo perché è un binomio no sì è un binomio sì sì sicuramente sono quelle cose nella vita non posso lamentarmi devo dire perché ho cominciato sempre con cose di serie a ho avuto la fortuna di poter lavorare di imparare soprattutto con dei personaggi pazzeschi con degli attori straordinari con dei registi incredibili e quindi questo non ha fatto altro che farmi crescere ve la ricordate la ragazza del mese a domenica in quindi erano quattro quattro settimane sì buona sostanza no quattro puntate in cui pippo baudo smac grande pippo trovava giustamente cercava talenti che aveva inventato lui attenzione questo noi lo sappiamo e eccola qua questo è il mio provino il provino nuovo corso questo è il provino di Edi Angelino in una festa di novità di insomma era una gioia vederti grazie grazie vero sì 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 no è stato sai che probabilmente non riuscirei a fare quello che facevo lì cantare poi una volta ballare perché ero così ingenamente in superficie non so come dire così eri preparatissima ma c'era l'incoscienza dell'età 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 e quindi cantava Edi suona con la chitarra sì sì adesso probabilmente se dovessi cominciare a suonare fare gne 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 comincerai a fare così con gli accordi e invece lì pazzesco andavo suonavo cantavo è una meraviglia questa donna nel 1984 aveva 23 anni unico motivo per il quale uno dica proprio quanto ti invidio mamma mia quanto ti invidio festival di sanremo perché baudo la vuole con sé saggiamente incontra freddy mercury boy george paul young cioè te ne sei trovati qua e tu pensa che c'avevo i loro poster capito nella mia cameretta e non è l'unica e quindi tu eri lì così freddy mercury e poi george questi e poi te li trovi lì davanti era una roba vabbè ma d'altronde ragazzi stava al festival sanremo perché era Edi Angelino ed era ed è brava il teatro è casa mia dice di la mia passione tu hai debuttato al sistina con quel gran signore di gino bramieri il mio papà caro grande splendido un uomo meraviglioso un uomo un talento incredibile io siccome entravo nel secondo tempo facevo la parte di sua figlia e allora tutto il primo tempo me lo facevo in quinta guardando lui tutte le sere per fai conto due stagioni è ma io volevo imparare volevo imparare e lui sapendo che io ero in quinta perché mi vedeva ogni sera mi improvvisava qualcosa faceva qualcosa di nuovo per me era una roba guarda e io credo che quello che so e soprattutto grazie a lui a quello che ho visto le sue pause i suoi tempi comici i suoi silenzi stracolmi di arte era un uomo poi troppo spassoso troppo divertente alla fine dopo lo spettacolo se andava a cena tu non hai idea c'è un altro spettacolo si metteva i tovaglioli in testa con le orecchie a sventola cominciava a fare di tutto e di più io non ho mai riso tanto in vita mia guarda che è una meraviglia quello che stai dicendo lo sai che sia bellissimo ma è una meraviglia perché tu con sistina si garini e giovannini si bramieri si non vuol dire per forza diventi bravo esattamente il contrario se non sei bravo non diventi bravo ma se lo sei diventi così bisogna essere delle spugne e quando trovi il talento il grande attore la grande attrice devi soltanto star lì e assorbire di tutto di più che meraviglia allora rugantino due punti intanto rugantino in scena fino al 22 maggio al teatro sistina di roma sette repliche straordinarie la conosciamo l'abbiamo appena sentita cantare con la voce le movenze di eusebia il primo rugantino della tua vita nel 2005 con michele la ginestra oh lo conosciamo beh sì è mio fratello michele proprio gli voglio un bene pazzesco e abbiamo un'intesa incredibile poi lui è stupendo è stupendo io l'adoro troppo simpatico e poi ci vogliamo molto bene abbiamo fatto un altro spettacolo insieme che era radice di due e niente tutte le volte che ci troviamo in scena non c'è un tale come posso dire feeling tra noi due che ci capiamo al volo qualsiasi cosa accada in scena ci guardiamo abbiamo capito tutto cioè abbiamo una grande intesa allora sembra che è di angelillo conosca michele la ginestra la domanda è michele la ginestra conosce mi hanno detto ma potresti fare un saluto a edi angelillo amico edi angelillo io non so proprio chi sia non è che la conosca più di tanto edi angelillo chissà chi è di angelillo no perché io non è che l'abbia frequentata più di tanto edi non è che abbia fatto delle cose insieme a lei non è che io abbia delle delle cose fatte e di angelillo non è una brava attrice sicuramente simpatica non la conosco così tanto come come potrebbe sembrare così vabbè niente ciao ciao michi grazie ed è ed è questa questa intesa che sicuramente scatta scatta perché deve scattare un allineamento di pianeti no non ci puoi fare niente però è maggiorata e aggiunta anche dal lavoro condiviso dalla dallo stare insieme dal rendere quel lavoro che è serissimo un gioco costante questo è il bello per questo voi arrivate a noi pubblico sì assolutamente divertite assolutamente ci divertiamo con serietà ecco assolutamente divertite con estrema serietà allora con divertendosi con estrema serietà edi angelillo lavora con alberto sordi e carlo verdone nel film 1982 in viaggio con papà e anche quella deve essere stato un serissimo divertimento quello è stato più divertimento se proprio io sono sincera nel senso che ero abbastanza giovane anche lì e ed era un gioco per me non non pensavo porca miseria c'è alberto sordi sono qui poi lui era simpaticissimo mi prendeva sempre in giro mi diceva tu sei la rita e ordino altri diciamo di tutto di più e io ridevo come una matta e con carlo anche carlo verdone carinissimo pure lui però era un gioco per me eravamo a puntale in un hotel pazzesco bellissimo 10.000 stelle piscina cose e lavoravamo la sera oppure verso pomeriggio tardi capito quindi la mattina si dormiva fino a tardi si andava in piscina cioè questa era una vacanza pagata ovviamente e stavo con alberto sordi con carlo verdone capito la cosa incredibile quindi vabbè che dire è questa la magia del nostro lavoro in tutto questo è di angelillo non ha mai staccato i piedi da terra questo credo che sia tra i tanti tantissimi non voglio dire tra tutti i tuoi meriti quei meriti che devi riconoscere a te stessa forse quello più alto più importante no rimanere guarda il complimento più grande che mi fanno normalmente che una volta che mi conoscono mi dicono ma sei una persona normale allora la risata la mettiamo a pari a pari con gianluca guidi come risata quelle risate che tu le senti e scoppi a ridere perché non c'è anche risate che tu senti insomma ridi relativamente no tu proprio sei e questo è importante perché ti posso dire io le persone più importanti che ho conosciuto nella mia vita non se la tiravano minimamente è strano è no è che probabilmente hanno bisogno di fare un po' i diri le cose forse sono un po troppo fragili credono è probabile è probabile e che non credono così tanto forse ci credono tanto preso un po stupi no perché quando uno crede troppo in se stesso no bisogna prendersi un po più in giro insomma con più leggerezza serietà e leggerezza serietà e divertimento questo è sono sono sorelle fratelli per forza io sto sto insieme a voi da casa io mi sto godendo proprio lo spettacolo no allora solare sta andando in scena questa questa splendida attrice che anche mamma sei mamma di un bimbo che si chiama un ragazzo ormai che ha 21 anni sì per me sempre piccolo ovviamente andrei mangiato andrei fatto questo andrei fatto questo mamma scollati te prego mamma scollati ha ragione andrea hai ragione a un certo punto mamma si deve pure scollare scollate ma scollate però ci sono quei figli che non perdono l'occasione per stare non so come dire anche per dire delle cose alle mamme perché questo è giusto che sia così e figurati se noi ci facevamo scappare l'occasione guardate un po ciao mamma e buongiorno a tutti scusate gli occhiali ma ho la faccia delle 6 del mattino quindi abbastanza improponibile e quindi niente ti saluto mamma un bacione e ho spento lo scaldabagno quindi a posto ho preso la vitamina c quindi niente influenza per oggi e vado alle riprese tranquillo ci vediamo dopo ho spento lo scaldabagno è bellissima vitamina c vitamina c sempre dico mi raccomando amore poi hai spento lo scaldabagno è chiaro già che il tuo ti sei messa la maglia pesante quello l'ho però quasi come questa roba qui dello scaldabagno perché lui insomma essendo un ragazzone fantastico poi è un ragazzo meraviglioso mi diverte tantissimo però come tutti i ragazzi fa un casino pazzesco in casa no le calze le cose eccetera gli dico amore poi ricordati di spegnere lo scaldabagno di non tenerlo acceso tutto il giorno mi raccomando eccetera lui ovviamente se lo dimentica infatti eccola adesso abbiamo le prove però che andrea spegne lo scaldabagno ma come avete fatto a beccarlo l'ora solare arriva ovunque fantastico non mi ha detto niente il maledetto capito e sanno che sorpresa sarebbe stato fantastico bellissima quindi andrea grazie 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 infinite allora una mamma adorabile diciamola tutta una mamma adorabile e questa suo questo suo modo di stare sul set la rende così cara che nel 1998 prima stagione di un medico in famiglia con giulio scarpati e lino banfi è un medico in famiglia e è stato proprio molto bello poi con giulio si con giulio mi sono trovata benissimo perché una persona adorabile una persona così dolce così gentile poi bravo insomma no sono stata proprio bene il regista ricardo donna che strepitoso ma è stato proprio un bellissimo periodo proprio bello bello è così è così con gigi proietti 2005 né il veterinario e con gigi proietti io credo che ogni persona che abbia lavorato abbia da dire no non so se posso dirlo qua però perché lui faceva degli scherzi pazzeschi sul set quindi eviterei proprio di specificare che tipo di scherzo ha fatto però era pazzesco perché intanto quando si fa un film una serie ci sono dei momenti proprio in cui si aspetta tanto per il cambio luci la scena le cose e lui passava per un giro come e facendo scherzi però non posso dire quello che ha fatto perché dai bisogna essere però troppo divertente io riso tanto voi non lo saprete mai mai aspettate un attimo che scherzo era no guarda che io lo dico è io lo dico lo diciamo lo dico va bene allora lui passava tipo viene vicino a me mi fa io il romano non lo so bene quindi scusatemi oh ed oggi non mi sento tanto bene mi dico ma dai che c'hai gigi ti senti non lo so c'ho tutta una cosa nella pancia e ad un certo punto sento un rumore pazzesco faccio addio questo c'aveva una macchinetta dentro la tasca che faceva quello che doveva fare e quindi passava contanto tutti gli attori e cose fanno prant 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 no vabbè un genio un genio un mito un mito allora allora è di angelillo tra i tanti progetti uno spettacolo uno spettacolo che parla di una cosa che tu in realtà hai descritto finora ma che ti rappresenta molto bene di amicizia intanto è viva gli spettacoli e vive teatri pieni e viva il fatto che siamo no noi pubblico veniamo ad applaudirvi ecco ci puoi anticipare qualcosa possiamo che sarà che sarà dalla canzone di cico buarche che bellissima una canzone straordinaria che tra l'altro hanno fatto anche la versione in italiano fiorella mannoia e ivano fossati e e parla di una storia di amicizia profonda fortissima tra questi ex compagni di classe del liceo e quindi loro una volta al mese si ritrovano a casa di filippo uno dei insomma degli amici e si raccontano senza mogli figli solo loro tre la scuola la scuola e si divertono durante una cena verrà fuori un qualcosa di molto forte che farà capire fino a dove riesce a spingerti per amicizia e però non dico di che cos'è perché è uno spettacolo divertentissimo si ride tantissimo e poi c'è questa botta che però da ancora rende ancora più forte questa amicizia che da ancora più peso sì sì a tutta la storia e ancora due domande una che non è una domanda una persona francesco nuti francesco francesco e di francesco un ricordo ovviamente bellissimo in madonna che silenzio c'è stasera e un matto scatenato anche lui faceva ammazzare dalle risate non so quante volte abbiamo dovuto ripetere le scene perché faceva gli scherzi ciac e lui cominciava a dire le cose io ti prego io sai che sono una deficiente vedo una mosca e rido questo faccia di tutto di più quindi è stato bellissimo il ricordo che ho di lui è stupendo poi cantavamo insieme ebony and ivory live together quella canzone lì e no ce l'ho nel cuore ce l'ho nel cuore perché la cantavo sempre con lui e vabbè ed è successo quello che è successo e che dire che è un dispiacere porca miseria un dispiacere perché lui era un grande era bravo era un bravissimo attore aveva delle bellissime idee ed era ed era è una bella persona è una bella persona ma non sta bene sta male e quindi quello agli amici che stanno male si fa arrivare tanto amore quello si risolve magari non aiuta a ricreare quello che c'era prima però sapere che le persone che hanno lavorato con te ti vogliano bene sicuramente quello si l'ho rivisto comunque sono stata a prato e adesso a luglio tornerò a prato in suonore proprio per festeggiarlo eccetera e vabbè dai la cosa bella degli artisti sai cos'è e che rimangono per sempre e di loro hai quel ricordo di della loro arte e come gigi gigi proietti francesco c'è ancora però ecco quando pensi a francesco pensi a madonna che silenzio c'è stasera uomini insomma donne con le gonne tutti questi questi film bellissimi alle cose fatte sì brava e che rimarranno e che vengono regalate a noi spettatori e chiedo ancora una cosa a questa ragazza grazie per la ragazza sapete quando non ti sei messa d'accordo ma sapevi dico adesso dico ragazza e lei dirà a ragazza grazie per la ragazza eh sì siamo ragazze dai 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 siamo 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 ganze dai siamo belle ganze senti ragazza ganza c'è un oggetto a cui tu sei particolarmente legata sì cos'è ma tutti i miei album di fotografie io sono una patita proprio ne ho una marea poi mi piace tanto fotografare mi piacciono le fotografie monto i filmini ovviamente roba mia insomma di di però li regalo anche gli amici le le vacanze le cose mi piace tantissimo e perché rivedendo una foto o rivedendo un filmato io ritorno lì non so non sono una che insomma pensa al passato sempre no 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 quello no però mi piace però ha fermato quell'istante sì è bellissimo perché risenti quasi anche gli odori le risate quei momenti ed è mi piace insomma vabbè ognuno c'è la sua io sposo in pieno questa tesi perché è un viaggio che non costa niente ti serve solo guardare la fotografia sì e noi guardiamo edi angelillo l'applaudiamo a teatro l'applaudiamo sempre perché perché lei edi angelillo che vi devo dire di più grazie grazie di essere stata con noi allora domenico costinelli ha raccolto tutti gli oggetti di un tempo e ha fatto il museo delle cose perdute a dragona siamo vicino a roma il nostro rosario sardelle è andato a trovarlo applausi a questo signore applausi a questa ragazza sono domenico a gossinelli il fondatore di questo museo ho iniziato nel 54 ho cominciato a raccogliere come collezionista qualsiasi testimonianza del passato e loro ho cercato di raccogliere più oggetti possibili ci sono 15 quintali di bottoni antichi 15 quintali sono un milione e 600 circa 3.200 ombrelli antichi una delle rappresentanze della cultura regionale e sui pupi siciliani abbiamo dagli orologi del 500 in poi l'uomo si è sbizzarrito in modo incredibile in questo settore saranno circa 5-6 mila esemplari il macerino dell'800 a chissà che apparteneva perché ogni oggetto è carico di storia e del vissuto di ognuno ogni oggetto è una testa del mosaico umano quindi più oggetti uno raccoglie e più si completa il mosaico umano alcuni sì l'ho comprato nei mercatini all'asta me l'hanno donati oppure dai privati e ho girato più di 60 nazioni per cercare più oggetti possibili quindi è il museo dell'uomo in senso lato quindi senza frontiere e qui abbiamo l'astronomia e qui dove facciamo appunto i vari restauri e varie creazioni artistiche gli diamo vita agli oggetti gli diamo la seconda vita per me è una missione salvare più oggetti possibili dalla distruzione perché la maggior parte di questi oggetti sarebbe andato al macero sperando che nel futuro le generazioni possano apprezzare questa raccolta immensa perché supera svariati decine di milioni di oggetti noi abbiamo questo compito appunto di conservare la cultura del passato, la memoria storica custodire gli oggetti l'abbiamo visto quanto sia importante ma anche perché in fondo vedete è un po' la stessa cosa in scala prendersi cura e ridare vita alle meraviglie che vivono all'interno del nostro paese dico meraviglie perché noi siamo seduti su una miniera d'oro lo sappiamo è l'Italia, è il paese più bello del mondo e lo sanno molto bene i miei due ospiti che io sono felicissima di aver messo insieme oggi Marco Frittella, giornalista Volto Rai lo conosciamo tutti e il nostro generale Roberto Riccardi comandante dei Carabinieri tutela del patrimonio culturale alla guida di questo importantissimo team dal 2019, detto nostro perché insomma un po' lo consideriamo qui di casa Marco Frittella ha scritto un libro che vi consiglio seriamente di leggere L'oro d'Italia dall'abbandono alla rinascita viaggio nel paese che riscopre i suoi tesori e la sua anima edito da Rai Libri Allora, con il generale faremo tra poco un percorso sempre importante ma ancor più importante in questo tempo e in questo periodo con Marco parliamo di un libro poco fa il generale diceva hai fatto benissimo Marco a partire da quella storia che nasce dalla vicenda di un eroe a suo modo di un eroe Un eroe civile un vero e proprio eroe civile il cosiddetto Angelo di Carditello il signor Tommaso il quale si era autonominato diciamo così volontariamente custode della reggia di Carditello che all'epoca era completamente in provincia di Caserta uno dei siti borbonici costruita da un allievo del Van Vitelli che era completamente nel degrado avevano rubato tutto pure le acquasantiere, le scale, i pavimenti ed era nel degrado assoluto e il signor Tommaso si incarica di custodire questo bene si autoincarica così lo fa volontariamente va a pulire, va a sistemare naturalmente siccome di mezzo c'è pure la camorra gli fanno delle intimidazioni gli bruciano la macchina perché questa cosa non piaceva naturalmente perché c'era chi voleva andare a fare i propri comodi alla reggia di Carditello e lui invece si appassiona fino al punto di coinvolgere il ministro dei beni culturali dell'epoca che era Massimo Brai lo convince ad andare a Carditello e gli chiede di comprare la reggia Brai gli promette questa cosa e mantiene la promessa mantiene la promessa ma la notizia dell'acquisto da parte dello Stato della reggia di Carditello che oggi è perfettamente restaurata avviene e arriva dopo qualche giorno la morte del signor Tommaso che era morto la notte di Natale nel giro di guardia che lui ogni notte quindi anche la notte di Natale faceva alla reggia di Carditello è un eroe civile e poi bisognerebbe è un eroe civile bisognerebbe sì dedicare ancora ancora una una maggiore attenzione grazie grazie Marco è già il fatto che un giornalista come te sia partito da lui per raccontare io parto da lui questo libro è tantissimo i carabinieri che tutelano il patrimonio culturale del nostro paese quando ci incontrammo con il generale Riccardi per raccontare questo vostro grandissimo lavoro abbiamo detto vasto impegno perché per quante meraviglie noi abbiamo altrettanto grande è il vostro instancabile lavoro abbiamo infinite meraviglie e magari ci fosse un signor Tommaso per ognuna di loro però ci sono tante persone che collaborano attivamente alla tutela che è il nostro compito lo svolgiamo dal 1969 con grande impegno con grande passione tutti gli appartenenti a questo comando sono volontari sono esperti se non lo sono lo diventano perché maneggiare materie come i dipinti della nostra arte straordinaria il nostro oro ecco è veramente così come quello dei maestri senesi da Duccio di Buoninsegna come quello dei mosaici di Ravenna a cui Klimt si ispirava è veramente una fortuna un regalo della vita con un lavoro da parte vostra che è un lavoro certosino voi arrivate e parleremo tra poco di recuperi strepitosi arrivate a tutto questo attraverso le vostre indagini e quindi dovete lavorare a tappeto a rete le indagini dell'arte sono straordinarie fanno viaggiare nel tempo e nello spazio ci portano nell'antichità e ci portano in ogni capo del mondo perché i traffici illeciti non si fermano le frontiere ogni opera va a cercare il mercato più ricco per quel segmento di beni culturali quindi è un'esperienza straordinaria che arricchisce allora da Pompeo e la Veneria Reale da Parma alla Colimbetra è un gran bel posto è un gran bel secondo Marco Frittella ci ha scritto tutto un libro noi ve lo raccontiamo insieme al generale tra poco Allora Solare grazie lo metto qui vi aspetto va stiamo parlando di noi ovvero dell'Italia ovvero di un luogo che è oro oro puro lo sa bene Marco Frittella giornalista avvolto notissimo della RAI TG1 uno mattina e mi puniscono l'ho detto prima direttore editoriale di RAI Libri che ha scritto e ha appena pubblicato l'oro d'Italia dall'abbandono alla rinascita a viaggio nel paese che riscopre i suoi tesori e la sua anima per scoprire tesori recuperarli con la serietà di quella divisa il generale Roberto Riccardi generale comandante dei Carabinieri tutela del patrimonio culturale del nostro paese allora c'è all'interno di questo libro Marco tutta una mappa una mappa vera e propria di bellezze che apri il libro lo leggi e cadono dal libro e da quel momento in poi perché questo fanno i libri belli ci appartengono hai raccontato la storia di chi ha tutelato fino alla fine della propria vita un bene che diversamente sarebbe andato a finire chissà come e quali altri racconti e luoghi troviamo? ci sono delle storie di beni culturali che erano stati abbandonati che giacevano nell'incuria e che invece sono stati recuperati e che oggi risplendono letteralmente pensa a Pompei ricordi lo scandalo del 2010 quando crollò la scuola armaturarum benedetto fu quel crollo e quello scandalo internazionale perché da allora è cambiata completamente l'aria allora Pompei Ercolano la reggia di Caserta il giardino della Colimbetra ad Agrigento la Venaria Reale a Torino sono tutte storie di recupero di recupero che è avvenuto grazie a una nuova consapevolezza a nuove norme a delle riforme che sono state fatte le riforme dei musei le riforme delle sovrintendenze a nuovi fondi e quindi ad un nuovo modo di approcciare il nostro patrimonio che è come hai detto larghissimo ma che deve essere gestito bene non solo tutelato ma anche valorizzato tutelato valorizzato gestito perché se no si può essere lo è una miniera d'oro ma se sei seduto sopra per l'appunto e non cerchi l'oro all'interno sei seduto su niente Italia primo paese che ha costituito il nucleo dei carabinieri che tutelano il patrimonio culturale diamo un po' di numeri in generale finora sono stati recuperati 3 milioni e 200 mila reperti sì sembra un numero incredibile in questo studio non ci starebbero è il frutto di un lavoro quotidiano in cui il presente e il futuro ci restituiranno il passato tanto è avvenuto come traffici trafugamenti scavi clandestini nei secoli addietro e anche nei decenni d'oro dei tombaroli dei trafficanti d'arte ma oggi grazie a una mutata coscienza nuove norme anche a strumenti tecnologici innovativi e interessanti stiamo ottenendo questi risultati io ho dedicato un intero capitolo ai carabinieri perché il generale Riccardi con il tradizionale understatement dei carabinieri non ci dice che i carabinieri del nucleo patrimonio di cui lui è comandante è un'eccellenza mondiale ecco bravo Marco l'hai detto tu mondiale sono i migliori investigatori in questo campo che ci siano al mondo tant'è vero che gli chiedono aiuto e soccorso da tutte le parti del mondo ecco questo scusi generale però lo dovevamo come dire sottolineare no? grazie perché? perché è un valore ed è un valore gigante del nostro paese la storia dell'orologio di Pio Nono c'è una storia di un orologio che è stato restituito anche al presidente Mattarella in quanto come dire al Quirinale doveva stare al Quirinale è tornato com'è questa vicenda? è una storia particolare anche interessante e divertente se vogliamo nei suoi risvolti perché si tratta di una storia finita bene Pio Nono l'aveva voluto nella metà dell'Ottocento e l'aveva commissionato un artigiano il più importante dell'epoca Mariano Trevellini quello che realizzava gli orologi a pendolo per le corti d'Europa era rimasto sulla torre del Quirinale fino al 1961 quindi aveva visto arrivare il Regno d'Italia i bersaglieri aveva visto passare le due guerre il fascismo poi è stato mandato in pensione succede anche agli orologi ed era finito in una scuola dove sarebbe sorto il museo dell'orologio questa iniziativa non ha più avuto luogo e nel tempo si sono perse le tracce è stato trafugato lo abbiamo recuperato in una villa nel Mugello alla fine del 2020 dove era finito a seguito di vari passaggi di mano l'abbiamo ripreso con un'attività sotto copertura ci siamo finti acquirenti interessati e lo abbiamo messo a sorpresa sotto l'albero del Presidente della Repubblica per il Natale del 2020 che meraviglia che meraviglia che bella che bella 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 storia nel 2019 avete riconsegnato alla Francia la porta del Bataclan di Bansky anche quella era stata ben altra storia ma era stata un omaggio alle vittime che questo maestro della street art aveva inteso fare realizzando un suo stencil con una bimba che piange avevano collocato l'opera sulla porta di sicurezza del locale proprio quella da cui erano fuggiti gli astanti mentre i terroristi sparavano e era stato rubato questo omaggio non potevamo restituire la vita alle vittime della strage abbiamo restituito questo omaggio recuperandolo in Abruzzo dove era andato a finire perché uno dei componenti della banda dei ladri era un italo francese e quindi avevano pensato di portare l'opera il più lontano possibile dall'epicentro delle indagi in collaborazione con i colleghi francesi è stato possibile riportare in Francia questo omaggio non avevano fatti conti con i carabinieri non avevano fatti conti con i vostri carabinieri con i carabinieri e con i vostri carabinieri Marco Fritella c'è l'imbarazzo della scelta nel tuo libro il tuo libro ci tengo a dirlo questo è anche è sempre così quando si è fammelo dire un giornalista di cuore e di intuito come tu sei in fondo in questo libro rientrano tante storie vicende fatti che appartengono alla tua lunghissima carriera è sempre difficile dover dire ad un papà qual è il più bravo tra i suoi figli in tutti questi capitoli qual è quello che hai già parlato di questo importantissimo inizio ma quello che ti prende di più la Colimbetra è una storia meravigliosa perché è un posto che ti incanta nel pieno del parco archeologico dei templi di Agrigento c'è una valletta una valletta in cui gli antichi greci di Agracas avevano costruito una piscina dove allevavano pesci e che era anche una risorsa idrica attraverso un sistema idraulico d'eccellenza 2500 anni fa dalla collina scendeva giù l'acqua e riempiva questa cosa la valle viene la piscina a un certo punto viene interrata e diventa un giardino una coltivazione di egrumi passano i secoli e questo giardino va nel più nero degrado ti dico soltanto che c'erano discariche abusive fogne illegali lì c'era veramente di tutto dei giovani di Agrigento dei giovani veramente appassionati di Agrigento l'hanno salvato hanno salvato questo luogo l'hanno restaurato l'hanno fatto ritornare un giardino adesso il giardino è gestito dal Fai che è quello che l'ha salvato diciamo e che adesso lo gestisce è un luogo incantato sotto un tempio sotto un tempio greco c'è questa valle di agrumi e di altre coltivazioni dove tutti e che è tenuto perfettamente si tengono eventi concerti eccetera la gente ci va a passeggiare gradevolmente se tu vai a visitare il parco archeologico di Agrigento che oggi è veramente ben tenuto puoi andare a fare questa passeggiata in questa valletta verde considera che sei ad Agrigento quindi sopra è terra bruciata dal sole ma sotto è tutto verdissimo allora questo è l'oro d'Italia questo è il libro il libro di Marco Frittella che è opportuno leggere è opportuno conoscere per decidere poi di fare un viaggio perché per esempio si può andare a visitare partire con un obiettivo vado a visitare quel luogo come andare a Scansano in provincia di Grosseto dove generale Riccardi voi avete restituito una scultura di Andrea della Robbia tutti zitti no guardate per favore è di una bellezza da far tremare le vene dei polsi e in questa restituzione che vi avete fatto è scattato un elemento in più ci sono il valore storico e artistico di una scultura in vetriata meravigliosa che parla da sola ma c'è il valore più importante quello affettivo per una comunità defraudata nel 1971 che ha visto tornare quest'opera nel 2020 bellissimo vedere gli anziani che piangevano ricordando di aver pregato bambini davanti a quell'opera e finalmente la vedevano rientrare come se fosse tornato qualcosa nella casa di ognuno lì a Scansano sono cose belle e io do merito a Marco Fritella che da giornalista di razza sa che le cattive notizie sono le migliori notizie e anche a questo programma che dà voce alla bellezza e al meglio ci sono tante persone affezionate legate a queste opere per mille ragioni e quindi parlare di questi argomenti ha un significato straordinario generale grazie grazie allora il senso guardate il volere insieme questi due uomini qui in studio ha avuto esattamente questo significato c'è un racconto dell'oro d'Italia che fa Marco Fritella e c'è quella appartenenza ogni volta che i suoi carabinieri in generale recuperano appunto un'opera in realtà in questo caso era proprio riportare ad una comunità ma in realtà siamo tutti più ricchi cioè rientriamo di qualcosa che è nostro il patrimonio è patrismunus è il dono del padre l'eredità degli antenati quando hanno voluto l'articolo 9 della Costituzione così sulla tutela del patrimonio culturale c'erano persone come Calamandrei che aveva indicato memore della guerra ogni volta che si perde un'opera d'arte è una zona della nostra memoria che si oscura intendeva la memoria collettiva quella di tutti noi restituiamo la luce è la nostra identità culturale è la nostra identità vediamo che cosa fa la guerra vediamo il saccheggio infatti loro sono i caschi blu della cultura voglio dire in gran parte o tutti non so i carabinieri caschi blu della cultura task force a disposizione dell'UNESCO composta dai nostri carabinieri ed esperti del ministero della cultura quindi voi siete questo un'iniziativa italiana del ministro della cultura con l'UNESCO l'abbiamo rafforzata già tanti sono stati gli interventi all'estero in Albania in Croazia in Messico in Libano siamo in Iraq dal 2003 e molti interventi anche in patria il battesimo è stato il 2016 con i terremoti dell'Italia centrale e lì con gli esperti del ministero della cultura abbiamo messo in sicurezza 30.000 beni che sono andati nei depositi del Santo Chiodo di Spoleto di Città Ducale per gli interventi conservativi e di restauro ho detto che siamo i più bravi è meraviglioso il fratello è stupendo l'ho detto della sintesi perfetta alla memoria di mio fratello Paolo che mi insegnò l'amore per l'antico c'è questa dedica molto bella nel tuo libro grazie sono le dediche sono sempre solo due righe a volte una e comprendono una vita dietro una vita intera beh penso che tuo fratello Paolo sia come dire in quell'altrove estremamente fiero fiero non possiamo dire di più allora dall'abbandono alla rinascita viaggio nel paese che facciamo notare è il nostro che riscopre i suoi tesori e la sua anima di questo parla Marco Fritella nell'oro d'Italia Rai Libri di cui è direttore editoriale il nostro generale l'arma dei carabinieri sarà preoccupata garantiamo ve lo restituiamo il generale Riccardi però sapete il nostro in quanto ogni bellezza è tutelata da voi ed è comandato tutto il vostro folto gruppo da quest'uomo grazie generale grazie grazie di essere stato con voi grazie a voi finisce qui l'ora solare grazie a tutti da lunedì e venerdì alle 12.20 grazie signori grazie